A Combrè, tutti i giorni, dalla fine del pomeriggio, molto prima del momento in cui avrei dovuto mettermi a letto e restarci, senza dormire, lontano dalla mamma e dalla nonna, la mia stanza ridiventava il punto fisso e doloroso delle mie preoccupazioni. Avevano perfino escogitato, per distrarmi le sere in cui mi vedevano troppo infelice, di regalarmi una lanterna magica, con la quale, nell'attesa dell'ora di pranzo, coprivano la mia lampada, e, come i primi architetti e maestri vetrai dell'età gotica, sostituiva all'opacità delle pareti impalpabili iridescenze, soprannaturali apparizioni multicolori, ove erano dipinte leggende come in una vetrata vacillante ed effimera. Ma la mia tristezza ne veniva invece accresciuta, perché nulla, come il cambiamento di illuminazione, distruggeva l'abitudine che avevo della mia stanza, e grazie alla quale, salvo il supplizio di coricarmi, mi era divenuta sopportabile. Ora non la riconoscevo più, e vi stavo inquieto, come in una camera d'albergo o di villetta di montagna, dove fossi arrivato per la prima volta scendendo dal treno. Al passo scattante del suo cavallo, Golo, l'animo pieno del suo atroce disegno, usciva dalla piccola foresta triangolare che ricopriva, come un velluto verde e scuro, il pendio di una collina, e avanzava sobbalzando verso il castello della povera genoveffa di Brabante. Quel castello era tagliato secondo una linea curva, che altro non era se non il bordo di uno degli ovali di vetro inseriti nel telaio, che si faceva scivolare nelle scanalature della lanterna. Era soltanto una parte di castello, e davanti ad esso si stendeva una landa, dove Genoveffa, che portava una cintura blu, se ne stava a fantasticare. Il castello e la landa erano gialli, ma per conoscere il loro colore non avevo dovuto aspettare di vederli, perché, prima ancora dei vetri del telaio, me l'aveva rivelato distintamente la sonorità bruno-dorata del nome di Brabante. Golo si fermava un istante per ascoltare tristemente, con l'aria di comprenderla alla perfezione, la didascalia letta a voce alta dalla mia prozia, uniformando il proprio atteggiamento alle indicazioni del testo, con una docilità che non escludeva una certa grandezza. Poi si allontanava, con il medesimo passo scattante. E nulla poteva arrestare la sua lenta cavalcata. Se si spostava la lanterna, vedevo il cavallo di Golo che continuava ad avanzare sulle tende della finestra, gonfiandosi sulle pieghe, discendendo nelle scanalature. Il corpo stesso di Golo, di una essenza altrettanto soprannaturale quanto quello della sua cavalcatura, aderiva ad ogni ostacolo materiale, ad ogni oggetto ingombrante che incontrava, facendolo diventare propria ossatura e incorporandolo, fosse stato il pomo della porta sul quale si adattava immediatamente e dove restava invincibilmente a galla la sua veste rossa, o la sua faccia pallida, sempre ugualmente nobile e melanconica, che non lasciava tuttavia apparire nessun turbamento per quella transvertebrazione. Indubbiamente trovavo un certo fascino a queste proiezioni brillanti che sembravano provenire da un passato merovingio e facevano fluttuare intorno a me riflessi di storia così antica. Ma non posso dire che malessere, nello stesso tempo, mi procurassero queste intrusioni del mistero e della bellezza in una stanza che avevo finito con riempire del mio io al punto da non far più caso ad entrambi. Venuta meno l'influenza anestetizzante dell'abitudine, mi mettevo a pensare, a sentire cose tanto tristi, quel pomo della porta di camera mia, così diverso per me da tutti gli altri, perché sembrava aprirsi da solo, senza bisogno di doverlo girare. Tanto il gesto mi era divenuto inconsapevole. Ecco che serviva ora da corpo astrale a golo. E non appena suonavano per la cena, avevo fretta di correre in sala da pranzo dove la grande lampada sospesa, che ignorava tutto di golo e di barba blu, che conosceva i miei parenti e il manzo in casseruola, spandeva la luce di tutte le sere, e di gettarmi tra le braccia della mamma, che le disgrazie di Genoveffa di Brabante mi rendevano più cara, mentre i misfatti di golo mi spingevano ad esaminare con più scrupolo la mia propria coscienza. Dopo pranzo, ahimè, ero ben presto costretto a lasciare la mamma, che restava a chiacchierare con gli altri in giardino, se faceva bel tempo, o, se faceva brutto, nel salottino dove tutti si ritiravano. Tutti, salvo la nonna, che trovava un delitto restare al chiuso in campagna e che a questo proposito i giorni di pioggia molto forte, aveva continue discussioni con mio padre perché lui mi mandava a leggere in camera invece di lasciare che stessi fuori. «Non è così che lo renderete robusto e risoluto», diceva lei tristemente, «proprio questo bambino che ha tanto bisogno di acquistare energia e volontà». mio padre alzava le spalle e scrutava il barometro perché amava la meteorologia, mentre mia madre, evitando di fare rumore per non disturbarlo, lo guardava con un rispetto intenerito, ma senza troppa insistenza per non cercare di penetrare il mistero delle sue superiorità. Ma la nonna, lei, con qualsiasi tempo, anche quando la pioggia infuriava e Françoise aveva precipitosamente ritirato le preziose poltrone di vimini per paura che si bagnassero, la si vedeva nel giardino deserto e sferzato dall'acquazzone rialzare le ciocche disordinate grigie dei suoi capelli affinché la fronte assorbisse meglio la salubrità del vento e della pioggia. Diceva «Ah, finalmente si respira!» e percorreva i vialetti inzuppati d'acqua, troppo simmetricamente allineati per il suo gusto dal nuovo giardiniere sprovvisto del senso della natura e al quale mio padre, fin dal mattino, aveva domandato se il tempo si sarebbe rimesso al bello. Con il suo breve passo entusiasta e scattante, regolato più sui diversi impulsi che suscitavano nel suo animo l'ebbrezza del temporale, la potenza dell'igiene, la stupidità della mia educazione e la simmetria del giardino, che non sul desiderio, a lei ignoto, di evitare le macchie di fango sotto le quali spariva quasi completamente la sua gonna color prugna, eterno problema e disperazione della sua cameriera. Quando questi giri in giardino della nonna avevano luogo dopo cena, una sola cosa aveva il potere di farla rientrare. In uno dei momenti in cui la rivoluzione della sua passeggiata la riportava puntualmente, come un insetto, davanti alle luci del salottino, dove sul tavolo da gioco erano serviti i liquori. La voce della prozia che le gridava «Batilde! Corri a impedire a tuo marito di bere del cognac!» Lo faceva per stuzzicarla. Infatti la nonna aveva portato nella famiglia di mio padre uno spirito così diverso che tutti la prendevano in giro e la tormentavano. Siccome i liquori erano proibiti al nonno, la prozia gliene faceva bere un goccetto. La povera nonna entrava, pregava ardentemente suo marito di non assaggiare il cognac. Lui si arrabbiava, ne beveva ugualmente un sorso e la nonna se ne andava di nuovo triste e scoraggiata, ma pur sempre sorridente, perché era così umile di cuore, così dolce, che la sua tenerezza per gli altri e la poca importanza che attribuiva alla propria persona, alle proprie sofferenze, si conciliavano nel suo sguardo in un sorriso in cui, contrariamente a ciò che si riscontra sul volto di molti esseri umani, l'ironia era riservata soltanto a se stessa e, per tutti noi, era come un bacio degli occhi che non potevano posarsi su quelli che le erano cari senza accarezzarli appassionatamente con lo sguardo. Quel supplizio che le infliggeva la prozia, lo spettacolo delle vane preghiere della nonna, della sua debolezza, vinta in partenza, nell'inutile tentativo di togliere il bicchiere di liquore al nonno, era una di quelle cose alla cui vista ci si abitua con il tempo, fino a considerarle ridendo e a prendere le parti del persecutore con sufficiente risolutezza e allegria, onde persuadere se stessi che non si tratta affatto di persecuzione. Ma a quell'epoca mi causavano un tale orrore che avrei voluto picchiare la prozia e non appena sentivo gridare «Batilde, corri subito a impedire a tuo marito di bere il cognac!» Già, uomo, in quanto aviltà, facevo quello che facciamo tutti da adulti quando ci troviamo davanti alle sofferenze e alle ingiustizie. Non volevo vederle. Salivo singhiozzando nella parte più alta della casa, accanto allo studio, in una piccola stanza sotto i tetti che sapeva di Iris e che anche un ribes selvatico, cresciuto di fuori, tra le pietre del muro e di cui un ramo fiorito passava attraverso la finestra socchiusa, riempiva di profumo. Destinata ad un uso più specifico e più volgare, questa stanza, dalla finestra della quale durante il giorno la vista arrivava fino alla torre di Rossainville-Leupin, mi servì per lungo tempo da rifugio, forse perché era la sola che mi fosse permesso di chiudere a chiave, per tutte quelle tra le mie occupazioni che richiedevano un'inviolabile solitudine, la lettura, le fantasie, le lacrime e la voluttà. Ahimè, non sapevo che, ben più tristemente delle piccole trasgressioni al regime di suo marito, la mia mancanza di volontà, la mia salute delicata, l'incertezza che esse proiettavano sul mio avvenire. Preoccupavano e rendevano triste la nonna durante le sue assidue e deambulazioni del pomeriggio e della sera, quando la si vedeva passare e ripassare, tenendo obliquamente sollevato verso il cielo il suo bel volto dalle guance brune e solcate di rughe, divenute con l'età quasi violacee come i campi arati in autunno, protette quando usciva da una veletta a metà sollevata e sulle quali, provocata dal freddo o da qualche triste pensiero, era sempre sul punto di asciugarsi una lacrima involontaria. La mia sola consolazione quando salivo a coricarmi era che la mamma venisse a darmi un bacio quando sarei stato a letto. Ma quel saluto durava così poco. Lei scendeva così presto che il momento in cui la sentivo salire e l'attimo dopo in cui il fruscio leggero del suo abito da giardino in mussola azzurra dal quale pendevano piccoli nastri intrecciati di paglia passava attraverso la porta nel corridoio, era per me un momento doloroso. Annunciava quello che l'avrebbe seguito, il momento in cui mi avrebbe lasciato, in cui sarebbe ridiscesa. Così arrivavo ad augurarmi che quel saluto che amavo tanto giungesse il più tardi possibile affinché divenisse più lungo l'intervallo di tempo durante il quale la mamma non era ancora venuta. A volte, quando, dopo avermi baciato, apriva la porta per andarsene, volevo richiamarla e dirle «Dammi un altro bacio!» Ma sapevo che il suo volto sarebbe apparso subito contrariato perché la concessione che faceva alla mia tristezza e alla mia agitazione, salendo ad abbracciarmi, recandomi quel bacio di pace, irritava mio padre che trovava quei riti assurdi e lei avrebbe voluto cercare di farmene perdere il bisogno, l'abitudine, ben lontana dal lasciarmi prendere quella di richiederle quando era già sulla porta, un bacio in più. Ora, vederla arrabbiata distruggeva tutta la calma che mi aveva recato un istante prima, quando aveva piegato sul mio letto il suo volto amoroso e me l'aveva atteso come un'ostia per una comunione di pace, al quale le mie labbra potessero attingere la sua reale presenza e la possibilità di addormentarmi. Ma quelle sere, in cui la mamma tutto sommato restava così poco tempo in camera mia, erano ancora dolci in confronto a quelle in cui c'erano invitati a pranzo e in cui per questo non saliva a darmi la buonanotte. Gli invitati si riducevano di solito a Monsieur Swan che, eccetto qualche stranio di passaggio, era quasi la sola persona che venisse da noi a Combrè, a volte a pranzo in qualità di vicino, più raramente dopo quel cattivo matrimonio perché i miei genitori non volevano ricevere sua moglie, a volte dopo pranzo, all'improvviso, le sere in cui, seduti davanti alla casa, sotto il grande Ippocastano, attorno al tavolo di ferro, sentivamo in fondo al giardino non la campanella insistente e chiassosa che inondava e stordiva con il suo rumore ferroso, incessante e freddo tutti quelli di casa che la scuotevano entrando senza suonare, ma il doppio tintinnio, timido, ovale e dorato del campanello per gli stranei. Tutti si chiedevano una visita e chi può essere? Ma si sapeva benissimo che non poteva essere che Messie Swan, la prozia parlando ad alta voce per dare l'esempio, su un tono che si sforzava di rendere naturale, ci diceva di non bisbigliare così. Nulla è più imbarazzante per una persona che arriva di quel bisbiglio che può farle credere che si stia parlando di cose che lei non debba sentire. E si mandava in avant scoperta la nonna che, sempre felice di avere un pretesto per fare un altro giro in giardino, ne approfittava per tirar via surrettiziamente passando qualche sostegno al rosaio al fine di ridare alle rose un po' di naturalezza come una madre che per gonfiarglieli passa le mani nei capelli del figlio che il parrucchiere ha troppo appiattito.